Quando mancano ormai pochi giorni se non poche ore a queste tanto attese elezioni regionali incontriamo l'onorevole Ernesto Carbone del Partito Democratico qui in studio con noi, benvenuto. Grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Membro della segreteria nazionale del partito ma poi ha delle deleghe molto importanti che si riflettono direttamente anche sul nostro territorio, sulla Liguria e sul ponente Ligure. Ma partiamo parlando un po' in generale di questa tornata elettorale molto attesa. Si dice che la Liguria possa essere anche un laboratorio o comunque un punto di riferimento nazionale per il voto. Sicuramente la Liguria è una regione importante, e sicuramente domenica vinceremo, nonostante i due avversari che giocano solo a fare della Liguria un caso nazionale. Mi spiego meglio. Io ad oggi vedo che l'unico programma reale, l'unico progetto, l'unica visione per la Liguria c'è la Paita. Poi vado a vedere invece cosa pensano Pastorino e cosa pensano Toti. Uno pensa di dare una lezione a Renzi attraverso queste elezioni. L'altro pensa a creare un nuovo soggetto di sinistra. È brutto strumentalizzare i cittadini Liguri per fini che non sono assolutamente quelli se non meramente di bega interna. Ecco, questa di Pastorino è stata una situazione che ha un po' destabilizzato? Ha destabilizzato? Guardi, lo racconto personalmente. Io sono in Commissione Finanze e sono con Luca Pastorino in Commissione Finanze alla Camera. Dopodiché fino alle sei e mezza di pomeriggio si lavorò benissimo insieme sulle semplificazioni e sull'autoriciclaggio, arriva alle otto di sera e fa la conferenza stampa con cui annuncia l'uscita dal PD e la candidatura in Liguria. Non so cosa sia successo in quell'ora e mezza, magari sono state le scie chimiche che raccontano qualcun altro. So solo che un'ora e mezza lui ha cambiato totalmente idea su quello che era un percorso politico. E questo da una parte mi dispiace, da un'altra parte mi fa rabbia perché palesemente chi vota Pastorino vota Toti. C'è grande attenzione verso la Liguria, poi da parte del Partito Democratico, con lo stesso Renzi che è venuto più volte a Genova, a Spezia e quant'altro, è saltata la visita a Sanremo per quella tragedia che è avvenuta nel canale di Sicilia. Però insomma gli occhi delle PD sono sulla Liguria. Assolutamente sì, le ripeto quello che gli dicevo prima. La Liguria è una regione troppo importante per non essere governata bene e per non avere una visione seria nei prossimi 5 e 10 anni. Per questo il voto alla Paeta è un voto a una persona che ha un'idea di questa regione e capace di proiettare questa regione nel futuro. Cosa che non vedo, le ripeto, negli altri due contendenti alla carica di Presidente della Regione. Anche perché mi sembra che la Paeta stia facendo un lavoro serio, quotidiano e ha preso degli impegni precisi. Io banalmente mi chiedo perché Toti e Pastorino non si sono dimessi rispettivamente da Euro Parlamentare e dalla Camera? Come è cambiato il ruolo della politica anche con l'avvento di Renzi? Beh, è cambiata nel senso che noi in questo anno credo che abbiamo ridato dignità alla politica. Mi spiego meglio. Io ho iniziato a far punita quando avevo 20 anni e 20 anni fa sentivo bisogno di eliminare il bicameralismo perfetto. Poi da 10 anni a questa parte sentivo bisogno di cambiare questa legge elettorale che tutti chiamavano Porcellum perché non va bene, perché non funziona. E alla fine non si faceva nulla però. Noi come abbiamo fatto a ridare dignità alla politica? Facendo delle promesse e mantenendo le promesse. Noi spesso siamo accusati di essere troppo decisionisti, di essere troppo veloci. Però mi scusi, quando io faccio una proposta di una legge elettorale, la voto alla Camera, per un anno discuto all'interno del mio partito e con tutti gli altri partiti disponibili a sedersi, e dopo un po' però devo decidere. E devo decidere e mi assumo la responsabilità delle mie scelte. Perché quando parlo di alternanza vuol dire che io mi assumo la responsabilità di governare, mi assumo la responsabilità di scegliere, alla fine mi giudicheranno i cittadini, se ho fatto bene o se ho fatto male. L'astensionismo è un'ombra che si teme per questa tornata elettorale, non solo in Liguria ma in maniera un po' generale. C'è il timore che ci sia il 50% degli aventi diritto al voto che vadano alle urne. Mi rifaccio a quello che le dicevo poc'anzi, purtroppo si è persa la dignità della politica negli ultimi 15 anni, si è persa l'affezione alla politica e di conseguenza al politico. È normale che ci sia un calo degli aventi diritto al voto che si presentano alle urne. Io però sono fiducioso e credo che in Liguria ci sarà un'ottima affluenza, questo me lo auguro di cuore. Veniamo ai temi che abbiamo appena accennato poco fa perché lei si occupa del Made in Italy e voglio dire il Made in Italy da noi ha tante attinenze soprattutto sull'agroalimentare ma sul florovivaismo. Insomma sono temi molto importanti e anche in occasione di questa sua visita qui nel Ponente Liguria ha avuto modo di confrontarsi con alcuni addetti del settore. Sì, io ho fatto stamattina una bellissima visita al mercato del florovivaismo. Credo che sia importante e mi sono sentito di prendere un impegno stamattina, che è quello di fare chiarezza nel mondo agricolo. Mi spiego meglio. Quando noi parliamo di agricoltura siamo abituati a pensare al food, ai prodotti che poi vanno nell'agroalimentare. In realtà c'è un pezzo forte di agricoltura e importante che è non food. L'esempio è proprio Sanremo con il suo mercato dei fiori. Quindi quando io faccio conoscere al mondo i prodotti alimentari italiani che sono i migliori di tutti, devo anche permettere di far conoscere tutti i prodotti agricoli, i prodotti della terra che non siano food. E quindi quando io ho, e questo governo ha stanziato 260 milioni di euro per la promozione del Made in Italy, inevitabilmente quel Made in Italy deve rientrarci anche e soprattutto questi prodotti che in città come Sanremo mantengono sull'economia. Quindi devo spiegare che non solo qui si produce l'olio con l'olive taggiasche, uno dei migliori oli al mondo, ma accanto a questo abbiamo una produzione di fiori che anche quelli sono i migliori al mondo. I nostri fiori, quelli fatti qui, sono sicuramente migliori di un fiore fatto in Kenya piuttosto che di un fiore olandese. Bisogna farli conoscere un po' di più. E questo come? Le ripeto, questo governo ha stanziato 260 milioni di euro per la promozione del Made in Italy e quindi bisogna far sì che nei fondi dell'agricoltura rientrano assolutamente anche prodotti quali il florovivaismo. Dopodiché in Ligure si può fare un raggiamento ancora più ampio perché per quanto mi riguarda Made in Italy non vuol dire semplicemente prodotto, ma vuol dire vendere la regione, vuol dire vendere il sistema di vita che c'è qui, la cultura che c'è qui. È stato straordinario per me oggi scoprire che dove prima c'erano i binari di una ferrovia sono stati realizzati 24 chilometri di pista ciclabile. Mi sono fermato lì a fare due telefonate e su questa pista ciclabile sono passati solo stranieri. E questa è una cosa straordinaria e meravigliosa per questa regione. Tra l'altro abbiamo avuto il palcoscenico del Giro d'Italia che ha avuto la sua prima tappa proprio lì quindi importantissimo. Invece per il settore food? Beh intanto ci troviamo nell'anno dell'Expo. Beh certo, quindi questo sicuramente abbiamo l'opportunità di farci conoscere ancora di più rispetto a quanto non lo siamo già. Il settore food è semplice, qui avete dei prodotti che sono assolutamente tra i migliori al mondo e sono i prodotti che trainano l'intera produzione italiana. Anche qua mi piace farle un esempio. Io riesco a vendere l'olio extraverge di oliva italiano anche senza marchio, senza nessuna denominazione di origine. Perché? Perché accanto a questi ho una produzione, quali le DOP che avete in Liguria, la produzione di olio d'oliva da olive taggiasche, che mi permettono di far conoscere il prodotto migliore al mondo che traina quello che viene dietro. E poi combattere la contraffazione, che è un settore... Ogni tanto abbiamo le notizie di queste, anche dall'America arrivano dei prodotti che vengono spacciati per italiani e in realtà non lo sono. Qui andiamo su due ordini di problemi diversi. La contraffazione, che lì siamo davanti a gente che commette dei reati a tutti gli effetti, che fa un prodotto finto. Accanto a questo purtroppo c'è un problema, è quello dell'italian sounding, cioè dei prodotti che sono in italiano, ma italiani non lo sono, che a me sono però legittimi dal punto di vista dell'ordinamento giudiziario. Credo che una grossa mano in questo ce la possa dare il TTP, che è l'accordo che si sta facendo fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, al fine di permettere il riconoscimento di alcuni prodotti piuttosto che di altri reciprocamente fra Stati Uniti e Unione Europea. Torniamo alla politica. Intanto, come avete vissuto come Partito Democratico, per esempio la scelta di area popolare, che ha in suo interno al nuovo centrodestra, di andare invece in alleanza con Forza Italia e la Lega Nord, per esempio come accade qui in Liguria, mentre a Roma sono al vostro fianco? Guardi, io credo che NCD, area popolare, come si chiama in base alle regioni, cambiano un po' nomi. Credo che possa fare a livello locale ciò che vuole. Io credo che il governo di Roma, per capirci, sia nato per fare tre cose, richieste dal Presidente Napolitano due anni fa. Gestire la coda della crisi economica a livello mondiale, riformare la Costituzione e fare una legge elettorale degna di questo nome. Quindi a me, che a livello nazionale, a livello di governo, si sta insieme per un progetto preciso che arriva a fine legislatura, mi sta anche bene. Se poi a livello locale le scelte sono diverse, ce ne faremo una ragione. I rapporti con la Lega, Renzi e Salvini, insomma, non si risparmiano scambi accesi anche di battute. Il mio Salvini, però, a parte le sue battute, a parte le sue felpe, vorrei capire che tipo di progetto ha. Vorrei capire un contenuto di Salvini fuori le sue felpe. Adesso si sta facendo pubblicità con questo lancio di uova continue che ci sono, con queste aggressione. Anche via l'Iberia. Sì, non dimentichiamo che Salvini nel 1999 è stato condannato a 30 giorni di carcere per lancio di uova contro D'Alema e contro le forze dell'ordine. È un modo di far diverso. Chi va in piazza, chi va in tv a urlare, a sbraitare, chi invece ha un progetto, ha delle idee, facciamo delle promesse e le promesse le manteniamo. Per chiudere, cosa vede nel domani, nella politica anche generale italiana, insomma, dov'è che bisogna puntare la prua? Guardi, io credo che bisogna puntare sul far rinascere questo paese. Questo paese, secondo me, che è un paese straordinario, è stato un paese che ha fatto indietro tutta negli ultimi vent'anni. Basta immaginare dalle infrastrutture, alle compagnie aeree, alle compagnie telefoniche, alle compagnie energetiche, negli anni 70, 80 e 90 eravamo i primi al mondo. Abbiamo perso praticamente tutto. L'idea è quella di ritornare a far far l'Italia all'Italia. Grazie di essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a lei. Grazie a tutti voi per il cordiale ascolto. Arrivederci.